In tempo di guerra, quando abbiamo parlato di Mombardano, Antapastia e tutti i miei parenti, stavamo in un carugherito da noi, e quando abbiamo parlato ci abbiamo parlato dei cavalli, l'idea è più speciale, i vecchi, ma adesso stavamo sotto, eravamo tutti morti. Allora abbiamo detto che siamo tre figli, eravamo tre figli. E siamo perduti e rifugiati, ma siamo perduti così. Versi a ville. Versi a ville. E ci siamo restati nella villa, in un certo caso matta. C'è un'attività di qualche giorno, e una sera c'è giunto un Allemano che ha detto stasera non sorti le amiche, state in casa, e una nottata hanno bombardato l'attività. Allora ho detto così, i miei parenti hanno pianto per uva, e si muro là un po' più sopra, a casa ricche. Dei matti. E questi mi ricordo sempre, un affare straordinario, perché abbiamo solo visto, e senza rum, senza acqua, senza rum, no? Ma ricordo un uomo a volte per cerci, caseta. Mettiamo la deda nei muri, questo mi ricordo. un po' più sopra, e se muro là, e mi viene da un canale. Un canale. Un canale. E questo canale, ma ricordo sempre, è gioco gioco, ma ricordo. che l'allemano si mette in, sai, non è sto di più capo bene, con un mitraio di gran pressione, tiè. E beh, e voilà. Dopo questo, se si muro là di bastiglia, quando era finita la guerra, la guerra è stata così.